Alessandra, un esordio dolce e amaro, possiamo dire così qui a Loreto? Infatti non aspettavamo, anche perché li abbiamo messi in partita noi, dal terzo sette, abbiamo iniziato a sbagliare tutto noi, sinceramente adesso non c'è neanche cosa dirti. Beh, allora possiamo, ovviamente c'è un po' il ramarico di non aver chiuso la partita e non averla portata a casa per intero, però guardiamo qualcosa di positivo. Lo so che magari è difficile, però qualcosa di positivo possiamo tirarlo fuori. Di positivo c'è l'unica cosa che abbiamo fatto un punto, cioè sinceramente una partita persa più che altra secondo me di testa, cioè siamo uscite di partita proprio, le abbiamo fatte entrare, sono state bravissime loro e non siamo riuscite più a fermare il loro giocatore più importante, gli sbagli di muro sicuramente. Di positivo possiamo dire che un po' li abbiamo difeso, però nei momenti importanti ci è mancato un po' questa aggressività in difesa. Ok, grazie. Grazie.